Partiamo da una prima notizia che è una notizia che ci dice che in Germania per la prima volta dopo un po' di anni si parla di allarme recessione e l'Italia avrebbe già bruciato un punto di PIL. La Bundesbank ammette che con l'embargo sul gas di Mosca c'è una perdita attesa di 180 miliardi e una inflazione da record. Peraltro l'ufficio parlamentare del bilancio italiano rincara un pochettino questa dose di informazione dicendoci che le famiglie hanno cominciato a ridurre gli acquisti. Ora qui dobbiamo fare una osservazione dal punto di vista economico, cioè la Germania e l'Italia sono i paesi più colpiti dalla situazione che si è venuta a determinare e di cui tutti sono a conoscenza. La cosa che io osservo in termini paradossali è il fatto che il documento di economia e finanza presentato dal governo comunque continua a prevedere delle previsioni a mio parere ottimistiche su quello che è la crescita del PIL e si continua ad assecondare le manovre come dire di sanzioni eccetera eccetera come se nulla fosse. Francamente ritengo che l'invito a spegnere i condizionatori sia un po' una affermazione peregrina come strumento di inversione di tendenza rispetto a questo scenario. Ricordo a tutti che nel secolo scorso uno dei più grandi economisti mai conosciuti, il britannico John Maynard Keynes, inventò e spiegò al mondo il significato del concetto di domanda effettiva per cui diciamo che l'incrocio tra la domanda e l'offerta sul mercato non avviene per il fatto che ci sono dei mercati perfettamente efficienti che si allineano da sé come si pensava con una legge detta legge di 6i, come pensavano i neoclassici e via discorrendo, ma con l'intervento dello Stato in economia soprattutto nei momenti di crisi. E qui vi do una seconda notizia, quindi se le famiglie smettono di consumare si innesca una spirale che rischia di diventare una spirale recessiva. Una seconda notizia viene dal Corriere della Sera Francesco, prezzi e crisi, salari più leggeri, senza contratto 6 addetti su 10. Di cosa sto parlando? Sto parlando di una notizia che dice che dai dati del CNEL risulta che a febbraio del 2022, quindi dagli ultimi dati disponibili, 6 lavoratori dipendenti su 10 avevano un contratto scaduto. Allora, i rinnovi perché sono bloccati? I rinnovi sono bloccati perché l'aumento dello stipendio sarebbe comunque inferiore all'inflazione e quindi c'è una lotta in corso di cui poco si parla tra i sindacati che vorrebbero la detassazione degli aumenti contrattuali e dall'altra parte invece il governo che vuole rispettare i vincoli del rigore di bilancio e che naturalmente queste legittime, dal mio punto di vista, rimedicazioni contrattuali metterebbero in difficoltà. Una terza notizia che ti voglio dare è che tu ti ricorderai che abbiamo discusso qualche anno fa della Brexit e che c'erano opinioni discordi, chi come me diceva che la Brexit avrebbe portato alla Gran Bretagna maggiore ricchezza sostanzialmente, quantomeno finanziaria e chi invece diceva che sarebbe stato il disastro economico per quel paese. Ecco, a distanza di qualche anno, il Sole 24 ore pubblica una notizia che dice dalla Brexit a rally Londra la riscossa unica piazza positiva. La notizia quindi sembra confermare quelle che erano le mie ipotesi e cioè che i numeri sono stati positivi, non c'è stato nessun commissariamento dell'Unione Europea e quindi forse essendo la Gran Bretagna l'unico paese, Londra, che ha avuto una piazza finanziaria positiva nell'Occidente, ma come brava la regia di Radio Radio, evidentemente forse non è stata così errata la manovra della Brexit e quindi quando io parlo nelle mie rubriche con lo slogan finale qual è la soluzione Malvexit, voi sapete a che cosa mi sto riferendo, ci sono già dei precedenti storici, uno è questo che ci dice che la gabbia dell'Unione Europea non ha giovato ad alcuno e quando qualcuno se ne è liberato ha giovato a qualcun altro. Un'altra notizia che vi voglio dare è che la situazione internazionale sta creando le condizioni per le quali forse il patto di stabilità, cioè quella gabbia che per una decina di anni ci ha ingabbiato nel controllo del bilancio, nel riduzione di spesa pubblica, potrebbe slittare fino al 2024. Ma qui vi voglio dare un'altra informazione, cioè la perdita attesa del PIL nel 2022 sarà di 75 miliardi. Francesco ti ricorderai che tante volte abbiamo parlato nei mesi scorsi di PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ti ricordi che io dicevo qualche mese fa guardate che le cifre del PNRR sono irrisorie per lo sviluppo di un paese come l'Italia, viene presentato come uno scenario di valore storico, millenario, ma in realtà parliamo di numeri abbastanza ridotti. Ecco, per darvi un parametro, la perdita attesa nel 2022, qualora lo scenario continuasse negativo, potrebbe essere maggiore del contributo a fondo perduto del recovery fund italiano. Preciso, che ho spiegato tante volte a questa radio, che non si tratta di un vero e proprio fondo perduto, ma di una cifra che andrà comunque rimborsata dal 2026. Ecco, in questo scenario, come se nulla fosse, il documento di economia e finanza presentata dal Ministero continua a chiedere il cosiddetto avanzo primario. Tu ti ricorderai, Francesco, che tante volte io ho spiegato che l'avanzo primario è il differenziale sostanziale tra le entrate dello Stato e le spese della spesa pubblica, quindi tu capisci che se noi abbiamo un danno che è maggiore della quota del presunto fondo perduto e se quindi dobbiamo fare bilancio primario pur in presenza di una, semplifico, perdita per 75 miliardi, è chiaro che bisognerà tagliare ancora più spese oppure aumentare ancora di più le entrate. E qui c'è un'altra notizia che viene da Milano Finanza. Posso andare avanti, Francesco? Sì, è certo. Ascoltiamo con attenzione, Valerio. Grazie, Francesco. Su Milano Finanza c'è questa notizia. Stop alla stretta UE sui mutui e quello che sta succedendo è che la Commissione sta pensando di introdurre dei requisiti di rischio bancari ancora più stringenti per le seconde case. E qui osservo che questo sarebbe un danno importante per l'economia italiana, al di là del fatto che parliamo di prime o seconde case e al di là del fatto che Milano Finanza dice in Parlamento è ancora possibile bloccare la norma. Io dubito che succederà perché un po' vuoi per pavidità come dire del Parlamento, devo dire che veramente la regia di Radio Radio è impeccabile nel cercare le notizie in tempo reale. Complimenti a voi. Ecco, il mio commento su queste cose è che la Commissione europea sta introducendo dei requisiti bancari ancora più stretti sull'acquisto delle case in una situazione come quella che è sotto gli occhi di tutti e in un paese dove l'edilizia è un motore trainante. Tu ti ricorderai Francesco che qualche mese fa, dicembre-gennaio, io raccontavo di quello che succedeva per esempio sulle limitazioni del bonus fiscale sull'acquisto delle case, poi abbiamo parlato di riforma del catasto. Insomma, mi sembra, questa è la mia analisi, che da una decina di anni, perlomeno da quando ci fu l'ingresso del governo Monti, se ricordo bene, nel 2011, è da lì che è iniziata questa guerra al mattone, questa ostilità nei confronti del mattone, della casa e dato che l'Italia, diciamo come ha dimostrato nel corso del 2021 con una piccola ripresa, che era una ripresa tecnica, è molto forte sul lato del mattone delle case, a me pare che qui sia una precisa scelta di natura strategica internazionale di portare l'economia verso il mondo immateriale e non verso il mondo materiale. Quindi si vuole spostare i risparmi delle famiglie verso attività, diciamo così, borsistiche, per semplificare o comunque di natura azionaria, obbligazionaria di fondi, piuttosto che investire nel mattone, perché tutte queste manovre non si spiegherebbero se dietro non ci fosse una regia di una posizione ideologica in materia di politica economica, che avversa la costruzione di casi o lo scambio di case e invece favoreggia lo scambio di pezzi di carta. Confermo ancora con un'altra notizia del solo 24 ore dalla Brexit a rally Londra alla riscossa, ma questo l'ho già commentato precedentemente, vi do ancora un paio di notizie e poi chiudo, una è di Milano Finanza, l'altra era del solo 24 ore, Milano Finanza dice sofferenze di nuovo in crescita, a lanciare l'allarme alla Fabi. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di un rialzo delle sofferenze bancarie delle famiglie. Ecco, voi sapete che io parlo sempre di imprenditori e di commercialisti, perché questo è il mio lavoro, la mia professione, ma non rinuncio a segnalarvi che in questo momento stanno veramente pagando molto le famiglie italiane e questo è un problema perché le sofferenze sono aumentate in un anno, pensate, di circa un miliardo. Ecco, un miliardo praticamente cosa sono Francesco? Sono le rate non pagate relative ai mutui e tu capisci che un miliardo di famiglie italiane, un miliardo in valore naturalmente, un miliardo che le famiglie italiane non riescono a rimborsare al sistema bancario, sui mutui e sui prestiti personali, qui non sto parlando di aziende, sto parlando di famiglie, insomma mi sembra che sia un dato che ci dovrebbe fare riflettere. E l'ultima analisi di quello che è successo questa settimana dal punto di vista economico ve lo do di nuovo dal sole 24 ore con un altro articolo, energia e spesa, caro prezzi, manda in rosso 5 milioni di famiglie. Allora sto parlando del fatto che in pratica il deficit che si attende a fine anno sarà di circa 1300 Euro in più, insomma uno stipendio, per i nuclei meno abbienti e voi capite che per le famiglie meno abbienti questo pesa per circa un 10%, 9,9% sul reddito familiare, mentre per i più abbienti questo deficit potrebbe essere inferiore al 3%, come dire che nelle situazioni di crisi la povertà impatta asimmetrico e colpisce di più i poveri che i ricchi. Questa è una cosa talmente nota dal punto di vista economico che stupisce insomma un po' la ignavia e la protervia del governo che come se nulla fosse continua a parlare di pareggio di bilancio, ben sapendo che questo andrà a scaricarsi non soltanto sulle imprese, ma alla fine anche sulle famiglie, anche perché, chiudo Francesco, gran parte delle imprese italiane sono di tipo familiare. Allora, così è per fortuna in qualche maniera, perché laddove l'impresa è familiare c'è qualche speranza di una tenuta migliore, no Valerio? È così, no? In qualche maniera. Beh, allora, mettiamola così. Anche se non è l'ideale, è naturale, però voglio dire i dati sono questi. Allora, mettiamola così, tu sai che io parlo di economia umanistica, tra l'altro io oggi farò un webinar nel mio gruppo interno della Casa dei Matti e per accedere alle persone possono andare sul mio gruppo Telegram Valerio Malvezzi Economia Umanistica e cominciare ad ascoltare quello che io racconto su questo tema. La sintesi, come ho anche detto alla vostra radio in una mia pillola che non so se è stata pubblicata oggi o verrà pubblicata domani, la sintesi della contrapposizione è tra due mondi, uno che io chiamo il mondo dell'economia capitalistica e l'altro il mondo dell'economia umanistica. Io sono uno di quelli che ritiene che il mondo dell'economia capitalistica non sia né il migliore e tantomeno l'unico dei sistemi possibili e in sintesi la contrapposizione tra le due ideologie, perché a tutti gli effetti si tratta di due ideologie contrapposte e tra coloro che ritengono che il fine e il centro dell'economia sia il capitale e quindi le borse, l'accumulazione del denaro e chi ritiene che il fine dell'economia sia l'uomo e quindi il centro non è il capitale ma l'essere umano. In questo senso è centrale il dare lavoro alle persone.